Perché riteniamo che la nostra regione non debba rimanere indietro rispetto all'autonomia, perché temiamo che le autonomie differenziate non siano viste di buon occhio a livello nazionale, perché vediamo una sorta di stasi in un momento in cui noi dovremmo cercare di portare a casa più competenze possibili per quanto riguarda la nostra regione, assieme ovviamente al corredo finanziario, non quello degli altri, ma quello che dovrebbe rimanere qui nella nostra regione, e faccio riferimento per esempio al Trentino Alto Adige, noi crediamo che il futuro debba andare in questo senso ed è questo il senso della mozione.